Prima di avviare il video, ti ricordo di fare clic sul pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Alla ricerca della verità dietro la separazione La notizia della separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continua a tenere banco nei circoli dello spettacolo, con i fan che rimangono divisi tra la speranza di un ritorno di fiamma e la curiosità sulle dinamiche della loro rottura. Dopo diversi anni dalla fine del loro matrimonio, che ha dato alla luce il loro unico figlio, Nathan Falco, i due ex-coniugi sono diventati oggetto di speculazioni e ipotesi. La fine del loro rapporto ha colpito i fan con stupore e profonda amarezza, lasciando molti a chiedersi cosa sia realmente accaduto dietro le quinte. Sebbene Elisabetta e Flavio siano stati avvistati insieme in numerose occasioni nel corso degli anni, alimentando le speranze di una riconciliazione, è stata la stessa Elisabetta a rompere il silenzio sulla loro situazione. Pur confermando un forte legame con Briatore, la Showgirl ha chiarito che il tempo trascorso insieme è «principalmente per il bene del loro figlio. Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco», ha affermato Elisabetta. «Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima». Questa dichiarazione ha gettato ulteriori ombre sul destino della loro relazione, con alcuni fan che continuano a sperare in un ritorno di fiamma, mentre altri si interrogano sulla reale natura del legame tra i due ex-coniugi. Nonostante le speranze e le speculazioni, la verità dietro la separazione di Elisabetta Gregoracci e Flavio Briatore rimane avvolta nel mistero, lasciando i fan a cercare risposte e trarre le proprie conclusioni su questa intricata storia d'amore.